Finale B per la categoria G4, Tavernini, Rossetto, Guolo, Giacchi, Melchiotti, Zorza, Zocca e Morali. Panther Boys di Padova in prima posizione. Nicolò Rossetto tallonato dall'atleta del Garda Tavernini, poi abbiamo Zorza del Caravaggio Timma e ancora Trentino Garda che ha superato in terzo rettilineo Giacchi, Alessio Giacchi. Queste le prime quattro posizioni, seguiamo fino alla fine, nulla di variato.